Ora vediamo se riusciamo ad aprire il collegamento con il grande Edoardo Spinelli. Maestro? Maestro siamo in onda? Ah vedi tutto il sole, tutto il cielo, magari il compagno. Maestro siamo in onda? Ah ciao! Salve maestro, che piacere dove si trova? Eh sto a Nui, 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 Nui. Ah nella grande mela. La mela? Ma questo è un ufficio, non è nemmeno una frutteria o? Ma che hai fatto? Non hai fatto come tu? Hai fatto come questo? No no, ma intendo in America. Ah si, sto per lavoro. Fantastico, stavolta chi porterà su un grande schermo? Nicholas K. Nicholas. Chi? Nicholas, quello che costa Riders. Ah, Nicholas Cage. Ah eh, eh sì perché ero là, perché dovevamo fare il proseguo del film, perché quello è un film mistico, fantastico e da calore. E che cosa l'ha colpita di più in quel film? Ah perché Nicholas è tipo fuocoso, prende fuoco subito, e poi dopo che fa? Quando si spegne? E che faceva? Eh, tanto fu, tanto. Ma, maestro? Maestro è entrato in crisi? Eh? Ah no, che stava a pensare il titolo. Come si chiamerà l'opera? Eh, passive smoke. Ma in italiano vuol dire fumo passivo, cosa c'entra? Eh, c'entra, c'entra, perché sulla scena il fumo non deve mai manca, mai. Capisco, capisco. Allora, quando riporterai in Auge questo sequel? Chi ti devo portà? In Auge. Chi è? Mi che lo conosco io. Ma chi? Eh, sto sto Auge, che è il nuovo attore. Auge, all'apice del successo, parlo del nuovo film. Ah, eh, dipende. Da cosa? Eh, se non è tutto niente fumo, niente rossi. Agli angli, va bene. Allora salutiamo, maestro. Arrivederci.